PEBA, piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. A Bassano se ne parla così tanto che la giunta guidata dalla sindaca Elena Pavan non ha stanziato in bilancio neanche un euro. Insomma, a Bassano il PEBA è una scatola vuota. Ma se a Bassano tutto tace, ancora e purtroppo, un piccolo comune vicino, siamo a Mussolente, sta portando avanti un ambizioso progetto che riguarda proprio la stesura del PEBA con relativo contributo al 50% degli interventi da parte della regione. A livello tecnico in questo momento abbiamo affidato l'incarico per la realizzazione del PEBA. L'incarico l'abbiamo affidato anche grazie a un contributo della regione Veneto per circa 50% dell'importo. Quindi siamo un incarico affidato per circa 14.000 euro, di cui 7.000 ce li darà la regione attraverso questo mando. E poi l'intervento della regione sarà costante? L'intervento della regione certamente sarà costante per tutte le altre successive modalità. Su cosa verrà focalizzata l'attenzione soprattutto e su che zone del paese? Soprattutto l'area delle scuole, centri storici e i luoghi di maggiore affluenza, quindi parchi e impianti sportivi. A Mussolente il piano coinvolgerà tutta la popolazione, ma veramente non a parole come sta accadendo a Bassano. Gli amministratori misquilesi hanno programmato una serie di incontri pubblici nel capoluogo e nella frazione di Casoni e una camminata per il paese per scattare con i residenti una maxifotografia che permetterà di capire come muoversi per migliorare la qualità di vita del e nel paese. Il cittadino vive quotidianamente quello che sono gli spazi dati dal comune stesso, ma soprattutto vivono nella quotidianità anche quelle che possono essere delle barriere che devono essere tolte o comunque ci deve essere un programma che va a toglierle nel corso degli anni. Grazie. Grazie.